ciao ragazzi come va che noia è sto virus mannaggia in casa poche poche uscite anzi niente vabbè dobbiamo solo aspettare che passi ma aspettando che passi possiamo fare tante cose per esempio a me è venuto in mente per chi fa laboratorio di cucina al centro ma anche per chi non la fa di fare un dolce molto semplice lo faccio io quindi guardate è semplicissimo si chiama il dolce dei sette vasetti perché tutti gli ingredienti che servono vanno dosati misurati con i vasetti dello yogurt e quindi intanto vi dico che questa la bilancia proprio non ci serve gli ingredienti che ci serviranno sono i classici ingredienti per un dolce da colazione o da merenda adesso ve li faccio vedere yogurt intero al gusto che preferite zucchero di canna o bianco tre uova fresche olio farina 00 fecola di patate e lievito per dolci allora prima cosa una ciotola anzi ancora prima un grebiule che per me che sono un po pasticciona risulta essere molto utile cominciamo dallo yogurt io ho preso un gusto pesca ma ovviamente può essere di qualsiasi gusto a vostro piacimento apriamo il vasetto e versiamo tutto il contenuto del vasetto dentro alla nostra ciotola cerchiamo di pulirlo bene ecco qua adesso questo nostro vasetto servirà per dosare tutti gli altri ingredienti utilizziamo anche lo yogurt che c'è qua e seconda cosa zucchero io qui ho preso lo zucchero di canna ma può benissimo essere anche zucchero bianco due vasetti di zucchero quindi riempiamo un vasetto e lo versiamo dentro insieme allo yogurt e un altro vasetto ecco qua e via benissimo via dalla scena lo zucchero e cominciamo con una frusta a lavorare bene insieme lo zucchero e lo yogurt fino ad avere una specie di cremina ok adesso seconda operazione prendiamo le nostre uova un'altra ciotola un'altra ciotola un po' più piccola e ne rubiamo le uova separiamo i tuorli dagli albumi i tuorli sono il giallo che c'è dentro il tuorlo cioè la pallina gialla che c'è dentro la buttiamo insieme al composto di zucchero e yogurt mentre i tuorli gli albumi la parte più chiara e più liquida la mettiamo in una ciotola a parte ci servirà dopo e cominciamo di nuovo con il nostro bella frusta a mescolare tutto quanto e mescoliamo ogni tanto devo manchiare la ricetta perché non me la ricordo a memoria scusate adesso è venuto il momento dell'olio di olio ne mettiamo un vasetto quindi prendiamo il nostro vasetto di yogurt lo riempiamo con l'olio e poi alla volta a filo come si dice nelle ricette serie lo inseriamo nel composto così diventa ancora più morbido più soffice mescoliamo bene così intanto lo zucchero si scioglie e voilà adesso continuiamo a mescolare bene adesso è il turno della farina usiamo la farina 00 e poi si usa anche la fecola di farina di farina ne vanno due rasetti ecco qua se veste piano piano eh ecco piano piano si mescola in modo che non ci siano i grumi si dice che dopo l'anno un po' fastidio nell'impasto e adesso un altro però perché uno basta quindi e adesso un altro però riprendiamo il sacchetto lo versiamo nel vasetto ok e la farina abbiamo dosiata mescoliamo bene ormai tagliamo la farina con il composto benissimo adesso prendiamo la fecola e di questa ne va un vasetto vediamo giusto? ok ok adesso noi mettiamo un po' da parte il nostro composto prendiamo gli albumi delle uova una frusta non è elettrica insomma lo stesso e cominciamo a montarli come si dice a neve se lo vediamo che entrano belli spumosi sembreranno a neve ora montate a neve vedete che belle? sembra neve vero? bene adesso riprendiamo la ciotola di prima con il nostro bel composto allo yogurt e inseriamo ecco qua per gli albumi montati a neve e piano piano li mescoliamo al composto facendo questo movimento ecco qua così una volta ammacamato tutto questo è il nostro composto andrà versato in una fornita da forno ecco qua con la carta forno oppure se preferite la imburrate con un po' di burro in modo che non soccarti il dolce ecco qua adesso il tutto va infornato in un forno a 180 gradi statico per 40 minuti il dolce è pronto lo prendiamo nel forno e voilà adesso lo alzo per la resina se volete basta aggiungere un po' di zucchero a velo così è un po' più dolce e buon appetito a tutti ciao